Ti immagini la faccia che farebbero, se da domani davvero, vero tutti quanti sventessimo. Ti immagini quante famiglie sull'astrico, altro che crisi del dollaro, questa sì che sarebbe la crisi del secolo. Ti immagini se fossi sempre l'America, tu fossi sempre libera, e se tua madre fosse meno erotica. Ma pericolò, dai! Uaah, è vero che, non siete già tutti d'accordo con me, che c'è qualcosa che, qualcosa che non va, lo so, però. Ma pericolò, se contro me, qui c'è qualcuno che è sbagliato un mestiere, non voglio mica dire, sia la vera e la carità, però, per cui, che cosa non va? FANTASIA 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 la pregatura che hanno preso quelli che sono partiti tutti di forza, tutti quanti per il Messico e se con due timagini se fosse sempre domenica tu fossi sempre libera e se tua barri fosse meno erotica a veri voi a veri voi vantassi, vantassi che volano liberi vantassi che apposte parriti vantassi che credono le pavole 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 vantassi, vantassi che volano liberi vantassi che apposte parriti Sì, sì, sì. Grazie a tutti